E' diventata l'immagine, simbolo, l'icona di questo terremoto del 9 novembre che all'alba di ieri si è abbattuto su Pesaro, su Fano, sulle Marche con la sua potenza di magnitudo 5.7. La parte posteriore del capo della statua della Madonna dei Cappuccini franata a terra dopo decenni che era lì, integra con il suo sguardo a dominare sul cavalca ferrovia rivolto verso il centro di Pesaro. In tanti pesaresi sono passati in queste ore a vedere la situazione, compresa il figlio dello scultore Luigi Galli che la realizzò ad inizio anni 60. Un grave danneggiamento che oggi ci viene raccontato anche dalla voce di padre Marcello Montanari che proprio all'ora della scossa di terremoto era nella chiesa dei Cappuccini a pregare. Questa scossa è stata piuttosto violenta e sono stati qualche danno in chiesa, anche nel convento, ma roba di calcinacci, crepes, sono aperte. Invece venendo qui davanti alla chiesa per constatare se le guglie stavano a posto, ho visto che un pezzo della statua della Madonna, la parte dietro dove c'è il velo e dove è innestata la corona che di notte si illumina, e quella era caduta a terra. E questo è un peccato perché questa statua qui passando sul cavalcavia tutti i pesaresi la vedono e tutti i pesaresi sanno di questa statua dell'Immacolata, dei Cappuccini e adesso ha avuto questo danno, speriamo di ripararlo nel più presto possibile. Già da ieri la politica si è detta impegnata nel voler ripristinare questa scultura dall'assessore alle infrastrutture della regione Marche, Francesco Baldelli, allo stesso comune di Pesaro. Ieri c'è stata la visita di un incaricato del comune anche per verificare e poi mi ha detto che anche il comune si impegna per quello che è possibile fare. Dopo che vedremo anche con la gente, con i fedeli, di affrontare un po' questo lavoro di restauro, in modo che di nuovo ritorna la statua dell'Immacolata visibile a tutti, visibile anche di notte con la corona illuminata. Sono le chiese a portare proprio i segni più evidenti di questo terremoto. Sempre a Pesaro è stata chiusa la chiesa del cimitero monumentale San Decenze dove sono caduti i calcinacci all'interno. Idem a Ronco San Baccio, gravi danneggiamenti interni con la chiesa che oggi si presentava assolutamente chiusa. Idem per Candelara dove alla Pieve i danni sono stati davvero importanti. Chiesa chiusa al pubblico e transennata anche all'interno dove sono visibili ancora le immagini dei calcinacci. Siamo molto preoccupati per quello che è successo perché effettivamente anche da un sopraluogo che è stato fatto ieri pomeriggio, le vigili del fuoco, poi rappresenta anche la sovrintendenza delle belle arti, hanno riscontrato dei danni significativi, non voglio dire notevoli, che hanno portato poi alla decisione di chiudere la chiesa. Fondamentalmente il danno più evidente è su questa parete qua, perché sia dall'interno che dall'esterno si vedono, si notano delle crepe che hanno lesionato questo muro. Questa lesione ha creato poi sopra, sull'appoggio delle travi del tetto, una specie di scivolamento che ha creato una caduta di diversi calcinacci. Questa cosa si è ripetuta anche purtroppo nella parte a sinistra, sempre della chiesa, nella parte centrale, nelle navate centrali. Anche lì inizialmente avevano deciso di transennare, poi la soluzione presa è stata quella per noi più spiacevole e problematica, perché adesso ci troviamo in una situazione di inagibilità della chiesa e anche dovremmo decidere assieme, giustamente al parroco, a Don Giampiero e alla comunità, come poi trovare una soluzione alle messe, alle liturgie, che tradizionalmente e stabilmente sono sempre state fatte in questa chiesa. E continuano i sopralluoghi a Candelara, anche la chiesa di Santa Lucia viene monitorata dopo il sisma subito, chiesa che può essere anche una sorta di piano B per le liturgie nel borgo di Candelara.